O di combattere i mostri marini O di lottare contro i pirati e trovare tesori nascosti Non sarebbe fantastico? Non mi piacciono le avventure Voglio solo sbrigarmi a tornare a casa Anch'io! Ma le avventure sono magnifiche Voglio davvero andare a vedere cosa c'è al di là del mare Allora, Marine, andrai molto lontano questa volta? Le previsioni meteo sono preoccupanti Già, non sarà un bene se il tempo peggiorerà ancora Il tempo in mare è così imprevedibile Fatto, sì, sì! Grazie! Ora possiamo caricare Marine Fatto, Marine! Grazie, Letty, ci vediamo presto, io me ne vado A presto, Marine! Ce l'ho fatta! Sì! Adesso comincia la vera avventura! Il tempo non è affatto bello Sarà meglio allontanarmi da qui al più presto Che cosa è stato? Ah, aria fresca! C'è qualcuno? Sono io, Marine, sorpresa! Cosa? Che cosa ci fai qui, ragazzino? Volevo solcare i mari e così mi sono intrufolato a bordo Posso venire con te? No, non puoi! Il mio ponte non è abbastanza sicuro per te Ma devi portarmi! Indosso anche il giubbotto di salvataggio! Non puoi venire con me! È meglio che torni indietro Tieniti forte! Andiamo! Per favore! Per favore! Per favore! Squadra di soccorso sono Jean Jean, sono io, Marine! Marine, ma cosa non va? C'è un bel problema! Sto rientrando! La tempesta è troppo forte! Non puoi tornare indietro! Il tempo è troppo brutto e sarà difficile attaccare! So che non sarà facile, ma Rosie si è intrufolato sul mio ponte! Oh, caspita! Le onde sono troppo forti! Non credo di riuscire a tornare da su! Resisti, Marine! Stiamo venendo ad aiutarti! Ho paura! Ho paura! Tieniti forte! Ce la faremo! Attento, Rodi! Rodi! Aiutami! Alla prossima! Ellie, sei pronto? Prontissimo! Cercherò di avvisarli! Seguitemi tutti! Bene, squadra! Sbrighiamoci! Marine! Occupatevi di lui, ragazzi! Marine! Dov'è Rodi? Un'onda lo ha scaraventato in mare. Direzione sud. Cosa? Roy, Amber, vi lascio con Marine. Io vado a cercare Rodi. Riccivuto! Aiuto, per favore! Sono qui! Che cosa dovrei fare adesso? Il fischietto! Dovrai usarlo per segnalare la mia posizione, giusto? Quando sei in pericolo, bisogna usare il fischietto! Ellie! Vedi qualcosa? La nebbia è così fitta che non vedo molto! Aspetta! Sento qualcosa! Il fischietto di Rodi! Devo scoprire da dove proviene! Qualcuno mi aiuti! L'ho trovato, Poli! Seguimi! D'accordo! Ellie! Rodi! Ellie! Ellie! Tieni! Sono salvo! Ora sei in salvo, Rodi! Vai, Poli! Bene! Facciamo ritorno al porto! E che ne sarà di Marine? Marine sta bene! Per fortuna! A sailor went to CCC to see what he could see see see, but all that he could see 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 was the bottom of the deep blue CCC! A sailor went to CCC to see what he could see see, but all that he could see see, but all that he could see see was the bottom of the deep blue CCC! A sailor went to CCC to see what he could see see, but all that he could see see see, but all that he could see see see, but all that he could see 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 was the bottom of the deep blue CCC! A sailor went to CCC to see what he could see see see, but all that he could see see see, but all that he could see 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 was the bottom of the deep blue CCC! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum,